Comunicare all'aula che come saprà il 23 marzo le associazioni dei disabili, dei familiari desiderati saranno in piazza con i dati effettuati dalla regione Lombardia sul tema della disabilità. Credo che sarebbe importante, mi auguro, che tutto il Consiglio fosse in piazza con le associazioni per chiedere all'Aggiunta di cambiare radicalmente. Nella scorsa seduta, Presidente, e arrivo a concludere, abbiamo messo in atto una protesta con dei cartelli, siamo stati derisi da diversi polegi in realtà molto attrezzati da chi ci ha guardato. Noi questa volta ce la evitiamo, non esibiamo i cartelli, ma io li distribuirò, come farò ogni volta il Consiglio, finché i miei cani non verranno ritirati, ma nemmeno le schiede a giunta. Le faccio adesso e mi auguro che tutto il corpo fosse un oggetto di una riflessione. Grazie Presidente, questo non è lo strumento dei lavori. comunque andiamo avanti, passiamo ora alla mozione 119, azioni volte a scondurare la delocalizzazione degli uffici della motorizzazione civile di Letto, la prima firma consigliere per i che hai presenti in aula ora e che ti spiega la parola per l'illustrazione. Prego. Grazie Presidente, vorrei rispondere a tutti i dati di Letto e 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 di Letto. Grazie Presidente, 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 gra Presidente Maioino, mi scusi, ma se è possibile mantenere. Prego, Presidente Tramperini. Prego, prego. Grazie Presidente. Arriviamo quest'anno a parlare di questa votazione perché abbiamo sconterto con un po' di stupore, con una qualche preoccupazione.